Per la sua prima regata intorno al mondo, Jan Kermadek ha dovuto sostituire Frank Dreville e al terzo giorno è secondo in classifica generale. La Vendée Globe è una regata per barche a vela che consiste nella circomnavigazione completa intorno al mondo in solitaria. Si svolge ogni quattro anni ed è considerata come la più significativa delle competizioni in ambito velico. Jan vede realizzarsi il suo sogno quando viene chiamato a sostituire l'amico Frank, fratello della sua compagna Marie, per competere nella Vendée Globe. L'occasione è quella che aspettava da sempre e la gara sembra mettersi per il meglio, ma dopo una sosta forzata alle Canarie per riparare un guasto al timone, scoprirà a bordo la presenza di un giovane passeggero a Manot che rischia di mandare tutto all'aria. Il regista Christophe Offenstein si è gettato nell'impresa di dirigere in solitario, una maratona di quasi due anni con gli attori concentrati in uno spazio di 20 metri quadrati circondati da 18 persone di troupe, riuscendo nell'intento di creare una pellicola dove alla fine è comunque l'avventura umana che prevale sulla magnificenza dell'impresa sportiva. Senza di me puoi vincere!